L'importanza dell'evento sottolineato dalla presenza dei massimi esponenti delle istituzioni nazionali ed europee. Da oggi infatti è attivo il 112, il numero di emergenza unico europeo. La nuova centrale operativa regionale situata al piano terra della cittadella è stata inaugurata dalla Presidente dell'Europarlamento Roberta Mezzola insieme al Presidente della Regione Occhiuto, al Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Teiani e al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Come già spiegato al Governatore Occhiuto, il loro coinvolgimento rappresenta un riconoscimento significativo per la Calabria. Del resto, Roberta Mezzola, che oggi conclude la sua due giorni calabrese, ha sottolineato il sostegno dell'Europarlamento alle iniziative innovative della Calabria nel campo della sicurezza e dell'emergenza. Ma come funziona il numero unico 112? Ebbene, ha il ruolo di far convogliare linee d'emergenza 112, 113, 115 e 118 in un unico numero che, attraverso il personale della centrale operativa, smisterà l'emergenza in breve tempo e con tecnologie sempre più avanzate alle forze dell'ordine e agli enti competenti per materia. Si può contattare gratuitamente da rete fissa o mobile ed è raggiungibile anche tramite l'app dedicata agli smartphone. Durante l'evento è stata simulata anche una chiamata al 112 con l'attivazione dei relativi e immediati protocolli per il pronto intervento degli operatori di soccorso o di pubblica sicurezza richiesti. A spiegare la funzionalità del sistema, Alberto Zoli, direttore generale dell'Agenzia regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, che ha prestato il proprio supporto per la realizzazione della centrale operativa calabrese. Migliorare la risposta all'emergenza è stato sottolineato e vitale. In questa prima fase il numero unico 112 sarà attivo nel distretto di Catanzaro-Lamezia ma entro marzo, assicura il Presidente Occhiuto, saranno operativi tutti i distretti telefonici della Calabria.